Il Tribunale del Riesame ha parzialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'ex poliziotto Maurizio Abate accusato di aver ucciso il 7 ottobre del 2005 Lisa Gabriele, la ragazza 22enne originaria di Rose in provincia di Cosenza con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Riguardo alle circostanze che portarono alla morte della giovane, il cui cadavere fu trovato in un bosco di Montalto Fuco, torna tutto in discussione anche alla luce dei rilievi effettuati dagli avvocati dell'indagato. Abate rimane tuttavia in carcere perché su di lui pende un secondo capo di imputazione, lo spaccio di droghe leggere emerso nelle indagini per far luce sul delitto. Questa ultima ipotesi è stata di fatto ritenuta valida per confermare l'ordine di custodia cautelare presso il carcere di Vibo Valencia.